E' meno male che la notizia era riservatissima. Silvana l'infermero ha detto che l'aveva data solo a me. Quella l'ha data a tutti e non solo la notizia, ricordati. Aonci niente da fare, a Colombari si è venuta l'esclusiva sorrisi e canzoni. Ciao polizia, non fanno entrare nessuno. Beh, allora diamo un cello, no? Sì, è come fin di Tom Cruise, Mission Impossible. Mission Impossible? Per l'altri! Ti sei spaventato? Ti sei piato paura? Alan, non ce la faccio più! Vamo la manz! Tutti loro! Voi sci, voi sci! Presto che questo mosco della mazzastrada, mu! È questione di millesimi, parecchia la vaga bene. Veloci ragazzi! Aonci a passiamo! Ecco fatto! Bologna! Mossa facendo! Facetecela largo! Vista! Messe controi da casola! Vista! Alla torna stava nel mito! Al terzo piano! Grazie! Sa fa il pisano! Bologna, chiami l'aiuto, resta giù! Vista! 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 Alla euro! Vista! Alla euro! Non fa male! Da quella parte! Io faccio il palo, vai! E mi fanno! Vai, vai! Faccio il palo, vai! Segui il piano! La maglia del patate! Ah! 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 Tu ce la facci! Tu! Passi, passi! La rompita! Sargola poi, al perà! Oh! Ma che fai? Sei proprio un maschile! Mi hai rapinato la panza! E mettegliela a posto! Ah! Sì! E mette a posto! Così! No, no! La metta a posto! Ah! Oh! Che tinta! E' padre! E' padre! Ah! Ah! E' padre! E' padre! E' padre! E' questa per infarto? Sì! Taglio cesareo! Taglio cesareo! Taglio cesareo! Amore, io non ti accorgio mai di niente! C'è un anestesia, non rompe le palle! Ma quali pà? Dimmi le pà! Quale l'estetica? Concenti! E' falla finita! Bravo! Quando vi chiamo portatemela su da Fifona, eh! Stai tranquillo! Ah zio, ma che lo facciamo per avere davvero? Non mi chiamo a zio che te staccano l'orecchia! Oh, poi a un certo punto se ne accorgeranno che c'ha... che c'ha... il coso, no! Come si chiama? E' il cazzo! Ma perché sei così volgare, inutilmente adesso? Che vuol dire? Ah no, piano B! Eh, meglio, piano B! Piano piano, eh, piano! Lentamente! Piano B! Vado via! Perché? Che è successo? Ah, è lui! È lui, aiuto! Ma cazzo vuoi? Ma calma, eh! Ha perso il corpo, signora? Pulizio! Sti po' di frocce! Cuccia lì! Infermiere! Che dolore! La mano! Che dolore! È il papà? Ma che papà? Io sono il professor di Padova. Lei è l'infermiere? Eh... Sì. Ah, sì, letto la signora. Così sta più comoda. Non vede che sta poco bene? Devo alzarlo? Non ce la faccio! Non ce la faccio, professore! E' una forte come il faccio! E' una forte come il faccio, ma non ce la faccio! Ma che fa? C'è il telecomando. Ah, è... Ecco questo? Sì. Signora, quale canale vuole vedere? Per la... Ma che c'entra il canale? Il telecomando del letto. Ah! Questo! Alice, ma questo sì. Ma che cosa fa? Apra! Io apro! Sì, sì, apro, apro! Io apro! Apra! Apra! Vieni! Apra! Apra!